ciao ciao a tutti bentornati nel mio canale oggi unboxing in collaborazione con il sito bid park vi mostro cosa scelto in collaborazione il pacchetto eccolo qui ovviamente già ho curiosato ho preso diverse cosine interessanti e voglio ricordarvi che le spedizioni arrivano sempre intorno ai 13 barra 14 giorni lavorativi in con la spedizione sl e ur e non ho mai non ho mai pagato neanche mai la dogana quindi ottimo adesso vi mostro cosa ho scelto sposto il pacchettino e qui c'è il ricapitolo di tutti di tutte le cosine che ho scelto sono esattamente 16 prodotti e il codice sconto per quanto riguarda questa collaborazione è questo qui gd3 off 02 per avere appunto il 3% di sconto vi ricordo che ovviamente questo codice viene sempre ogni volta che collaboro con queste aziende viene sempre rinnovato e cambia quindi il codice attivo è sempre ovviamente l'ultimo quello dell'ultima collaborazione cioè questa qui se state vedendo ovviamente questo video quando verrà appunto pubblicato oppure se state vedendo questo video e sono passati diversi mesi ovviamente il codice sconto sarà attivo quello lì dell'ultimo video uscito appunto sul canale pubblicato appunto sul canale eccomi allora vi mostro tutti i prodotti scelti vi ricordo che in descrizione vi lascerò il link di tutti i prodotti e anche il codice sconto il primo prodotto che vi mostro sono queste lime per unghie dei buffer ne me ne serviva solo uno me ne sono arrivate tre quindi ottimo starò a posto per un bel po mi sono fissata con la nail art e come si nota dai dai miei video e quindi mi serviva questo genere che a diversi utilizzi per lucidare l'unghia per i nuovi per rimuovere per limare e quindi ottimo e nella sezione nell'art ho fatto una piccola scoperta che adesso vi illustro in pratica ho trovato queste scatoline e queste scatoline già ve le ho mostrate in passato perché con queste scatoline io ho sistemato tutte le mie rocaille della 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 toho della preziosa della miyuki infatti già ne ho sei e quindi questa sarà la settima confezione che andrò a riempire poi ne ho ordinate anche altre e pian piano andrò a sistemare tutte le mie perline perché ne ho un botto parlando soltanto di rocaille rocaille 11 0 perché poi le 15 ce l'ho in altri in altri luoghi in altri mari comunque ritornando alle scatoline queste scatoline sono stra stra comode ve le consiglio perché oltre ovviamente alle rocaille potete inserire anche le perline da 4 mm le super duo potete inserire le perle sparpuca quindi tenere tutte quante le perline belle sistemate in ordine per colore e quindi avere una bella visuale queste scatoline ve le rimostro perché nella sezione nell'art costano soltanto 77 centesimi quindi appena l'ho visto visto anche questo prezzo irrisorio e quindi ho detto no la voglio prendere questa scatolina vedo com'è e poi ho visto che identica e precisa a quella che ho già ho detto no voglio voglio assolutamente condividere questa cosa con chi mi segue sono comodissime vedete sono le confezioni sono belle belle compatte e mi sono sempre trovata bene con con queste scatoline quindi ve le stra consiglio e ovviamente vi lascio in descrizione il link di questa scatolina che viene appunto 77 centesimi perché nel sito c'è anche nella sezione dove ci sono presenti tutte le scatoline e viene il doppio invece nella sezione nell'art il prezzo è soltanto 77 centesimi ed ecco del perché della scoperta allora poi per quanto riguarda la resina ho scelto questo stampo questo è il codice questo viene utilizzato per creare delle catene in resina o anche dei piccoli elementi in resina gli annellini sono in due forme diverse cioè nel senso sono in due dimensioni differenti una e 30 per 15 e l'altra 27 per 17 quindi sono simili però una un po più lungata e un altro un po più cicciottella un po più bassina di qualche millimetro quindi questo è il l'unico stampo che ho preso in collaborazione questa volta era quello che mi ispirava di più fra tutta la ampia carrellata di stampi che hanno a disposizione quindi andremo a sperimentare con questo stampo prossimamente oltre a questo ho preso anche queste forbici queste sono in acciaio mi mancava sempre un paio di forbici qui in soffitta e quindi ho detto perché no prendiamo queste che sono davvero anche molto belle e funzionano anche divinamente sono in acciaio con questa sorta di finitura un po rainbow sono davvero molto molto carine e come dicevo prima funzionano benissimo quindi tagliano divinamente queste sicuramente le andrò a utilizzare per tagliare gli stickers o anche i flakes o anche i fiorellini secchi quindi credo che andrò a riprenderne anche un altro paio per metterlo poi nella sezione delle perline perché le perline con la resina le ho appunto separate poi oltre a questo bellissimo paio di forbici ho preso un bel po di cosine ed eccole qua sono tutti quanti in cesta bustina prendo un po a random allora neanche farlo a posto ho preso ho preso i bezel allora ho preso questi sono davvero molto carini questo il codice sono cinque pezzi e questi me li immagino sono dei prendenti con questa forma molto carina me li immagino con la resina uv tutta colorata per creare degli orecchini o anche dei pendenti con delle collanine molto lunghe sono carinissimi e poi stesso discorso anche questi qui questi altri tipo loggio di bezel o anche la batteria scarica ottimo questi sono appunto cinque pezzi e sono carinissimi sono a forma di rombo dicevo sono a forma di rombo martellate vedete da questo lato sono martellate invece dall'altra parte sono lisce queste ne ho prese due confezioni ed ecco qui anche la seconda confezione sono davvero molto carine questi me li immagino anche come elementi per quanto pari portachiavi anche con la resina uv trasparente e i fiorellini secchi visto che adesso ho un bel po di fiorellini secchi da far fuori sia quelli presi da amazon sia quelli presidi da aliexpress e quindi me li immagino all'interno di questi bezel poi ho preso anche un'altra tipologia di bezel questi qui questi sono a forma di cuore e sono misura 33 per 28 sono dieci pezzi all'interno della confezione e questi me li immagino più come un portachiavi ma anche come pendente perché no sono davvero molto carine in forma di codicino con questa piccola asolina qui in alto stesso discorso questi me li immagino con la resina uv e fiorellini secchi a go go poi oltre a questi ho preso un po di elementi in acciaio questi sono dei perni a forma di goccia in acciaio questo è il codice e hanno anche sia la farfallina incorporata e poi hanno questi strassini crystal sono davvero molto molto belli poi sono un acciaio quindi ottimo sono molto carini poi l'ho presi anche a forma triangolare con strass multicolor sempre se li ritrovo ed ecco il qua questo è il codice sempre se lo metto a fuoco eccolo qui e questi sono a forma appunto triangolare con strassini multicolor sempre con la farfallina in dotazione ovviamente sono presenti una coppia per pacchettino molto carini anche questi poi ho preso altre cosine in acciaio come questi questi cerchietti qui davvero molto carini questi sono in acciaio chirurgico 316 sono misura 15 per 0,7 mm sono sottili ma vi dirò sono molto molto resistenti infatti ve li mostro ed eccoli qua sono davvero belli compatti sono questi piccoli cerchietti come dicevo prima in acciaio chirurgico e queste me li immagino decorati con dell'artistico ai del cipollottini oppure semplicemente inserendo dei charms oppure degli elementi in resina sono davvero molto carini 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 e poi ho preso anche questi altri cerchietti questo un po più grandi sempre in acciaio questi sono 22 per 18 sono 10 pezzi e questi invece è un mezzo cerchio ed eccolo qua con il con l'asolina carinissime anche questi sempre finitura dorata e io credo che andrò a mettere anche una farfallina sul retro e poi stesso discorso o lavorarli con l'artistic wire qui oppure mettere delle catenine appunto in alluminio oppure delle catenine fatto con le perline per creare degli orecchini estivi e carini poi ho preso qualcosina della miyuki ho preso questa colorazione di rocaille della miyuki ho preso solo questa perché come dicevo prima ne ho tantissime da aggiustare quindi era l'unica colorazione che non avevo stranamente e queste sono appunto le opac turquoise blue luster sono le 433 della miyuki ed è una bellissima colorazione vi dirò non vado pazza per il celestino ma queste sono davvero molto belle e poi della miyuki ho preso le long magatama le ho prese in due colorazioni questa è la prima e sono appunto le cobalt line sapphire ab e sono misura 7 per 4 mm sono davvero molto carine le long magatama sono un simil petalo me l'immagino tipo simil petalo molto molto carine queste sono sono carinissime base cobalt con la parte sopra appunto celestina con i riflessi ab questi sono appunto in questa confezione stracomoda tipo fieletta e poi quest'altra colorazione sono le metallic dark bronze queste sono la confezione tipo stile tic tac anche comode e queste sono appunto in questa stupenda colorazione dark bronze metallic dark bronze e queste le utilizzerò sicuramente per il progettino in tessitura questo è il penultimo prodottino preso gli air caff questi qui sono in ottone sto impazzendo per gli air caff e anche ovviamente per i cerchi ovviamente la mia passione continua sono davvero carinissimi con appunto gli strassini multi color sono presenti due due paio all'interno della della confezione ma sono adorabili sono fatti appunto in questo modo tipo zig zag con questi strassini multi color carini carini e poi l'ultimo prodotto che ho scelto appunto dal sito di bid park sono questi cabochon in porcellana misura da 14 mm questo è il codice e sono esattamente 100 pezzi quindi un bel po di cabochon da incastonare e da utilizzare in queste bellissime colorazioni c'è tipo questa qui che è un colore sabbia c'è turchese verde arancio giallo c'è cobalt marrone bianco davvero tantissime colorazioni una più bella dell'altra e non vedo l'ora di utilizzarli questi si possono utilizzare sia con le varie incastonature in tessitura oppure semplicemente inserendo sul retro con della colla un perno in acciaio con il pendente in modo da poter utilizzarli come perno sono davvero molto molto carini credo che andrò a utilizzare anche questi per il progetto appunto in tessitura di perline con le long magatame e speriamo che fuoriesca qualcosa di caruccio e niente ragazzi questi erano tutti i prodotti appunto scelti dal sito di bid park vi lascio tutti i link come dicevo prima in descrizione insieme al codice sconto io spero che questo video sia stato di vostro credimento lasciatemi un like e un commentino io come sempre vi saluto un bacione e la prossima con nuovi video ciao 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 ciao